I dati sono tutti in crescita nonostante la pandemia abbia reso difficile il lavoro. Parliamo dello Iov, l'Istituto Oncologico Veneto, che in occasione della giornata mondiale contro il cancro lancia un segnale di speranza, la ricerca, la bravura dei medici e dei chirurghi, ma anche del personale sanitario in generale, e poi le strutture, compresi macchinari e sale operatorie, un'eccellenza nel panorama regionale italiano. Un messaggio di positività. Guardate che la ricerca ha fatto passi da gigante, le terapie sono sempre più moderne, sempre più evolute, le tecniche intraoperatorie sono sempre più evolute, quindi la qualità di vita dei pazienti che purtroppo hanno questa esperienza di percorso oncologico è una qualità di vita sempre migliore e soprattutto di tumore si può guarire. Gli interventi chirurgici sono cresciuti del 15% in due anni, sfiorando in 5.500 nel 2021, ma crescita in doppia cifra anche per le prestazioni specialistiche, arrivate a 416.000. E poi ci sono i trattamenti sperimentali, a conferma dell'importanza della ricerca, il futuro dunque è dietro l'angolo. Fra un anno speriamo di avere qualche ulteriore ricerca positiva, speriamo di avere i cantieri aperti della radioterapia a Castelfranco e sicuramente entro quest'anno avremo potenziato le due radioterapie che già ci sono, che sono a Schiavonia e a Padova. E poi l'incremento sempre di più di personale, ma soprattutto di valorizzazione del personale. Per i pazienti, gli ov di Padova e di Castelfranco rimangono dunque dei punti di riferimento, a patto che il paziente sia sempre al centro di tutto, che l'umanità non sia solo delle cure, ma caratteristica principale anche di tutto il personale, chi soffre ha sempre la precedenza.